La ragazza nella nebbia Questo è il quinto romanzo dell'autore Edito da Longanesi nel novembre 2015 E costa 18,60 euro a 373 pagine Diciamo che se vogliamo un'unica pecca E che comunque vedete la stampa Cioè lascia molto spazio Potrebbero essere almeno 100 in meno Diciamo questa se vogliamo un po' l'unica pecca E allora Il romanzo si apre con Come posso dire Si apre con un poliziotto Un agente speciale Che ha un incidente Esce fuori strada con la macchina E ha i vestiti sporchi di sangue Però lui non è ferito E il sangue non si sa di chi sia Sembra pure che abbia dei vuoti di memoria E lo portano quindi dallo psicologo Dallo psicologo del paese Per cercare di tirargli fuori le informazioni Comincio così il racconto Di uno Dess'ultimo caso Si era trattato Della scomparsa Di una bambina del paese Lui infatti Questo agente speciale Vogel L'agente speciale Vogel Non era del posto Quando è scomparsa questa ragazza L'hanno chiamato Perché lui era uno molto conosciuto Molto famoso Che andava in televisione In televisione E l'hanno chiamato Per risolvere il caso Una volta arrivato lì Comincia appunto A indagare Insieme agli altri polizzotti E lui dirige la squadra Insieme A quello che le sono sottoposti Ovvero l'agente Borghi La ragazza scomparsa Si chiama Anna Lu Kastner Non so perché La prima volta Ho letto Kostner Perché C'è Cambio la lettera Comunque si chiama Anna Lu Kastner 15 anni Capelli rossi E lentigini E non si sa Chi sia Né Chi fine abbia fatto La ragazza Sa di fatto Che alla fine Ci sono diversi indizi Della colpevolezza Di Un uomo Che si è trasferito Da poco nel paese Che è Uno dei professori Della scuola Loris Martini Però non c'è Proprio La prova Certa La prova Provata Che sia stato lui Ci sono qualche inizio E c'è anche il fatto Che lui non abbia Un alibi provato Perché lui dice Di essere andato A fare trekking In montagna E Lui ha una ferita La mano E che Cadendo Per frenare la caduta Per attutire la caduta Si è Appeso a due ramo E si è graffiato A parte C'è questo Poi c'è qualche altro indizio Però non c'è Appunto la prova Provata Che sia lui E Sa di fatto Che però alla fine Lo mandano in carcere E Tempo dopo Capiscono Che però In realtà Il vero colpevole Non è lui Ma è un'altra persona Scusate Come lo scoprono Però che Lui Non è colpevole Perché già durante Le indagini Alla gente speciale Non mi ricordo mai il nome Vogher No Vogher Vabbè comunque lui Sì Vogher Arrivano due messaggi Sul telefono In cui Si chiede Un incontro Perché questa persona L'idea a parlare Lui però pensando Che sia un giornalista Che vuole qualche intervista Cancella il messaggio E non risponde L'ultimo giorno Che lui In questo paese Ave show Scritto così Ve lo lascio scritto Qua sotto L'ultimo giorno Che lui Lì Trova sul letto Nell'abergo In cui era già Un pacco Lo apre E ci trova dentro Non mi ricordo Se è un tablet O un pc Insomma Lo accende E da lì C'è un sito Che è già Precaricato Accede al sito E trova Un sito internet In cui c'è Una specie di blog Diciamo In cui ci sono Altre scomparsi Missiliose Venute nel paese E risalgono A 30 anni prima Ognuno di questi Scomparse Avevano un toto Di tempo Di distanza l'una D'altra E non ci sono più Sparizioni strane Da 30 anni Appunto E di questi ragazzini Non si sa Più nulla Avevano tutte Più o meno La stessa età Di Analu Kasmer Avevano tutte Gli occhi rossi I capelli rossi Le lentigini E avevano tutte Compresa Analu Quell'area Da bambine Da un po' Angioletti Diciamo Perché alcune Coitane di Analu Sembrano già più donne Che si truccavano Nebo alle varie Invece Le sagra più bambine Così come Gli altri casi Precedenti Ed erano Stati ribattizzati Da questa giornalista Che aveva creato Il blog L'uomo L'uomo Della nebbia Colui che Ipotizzava La presenza Di un Di un Maniaco seriale E l'aveva denominato L'uomo Della nebbia Da qui appunto Anche il titolo La ragazza Della nebbia Questa donna Suppone Che tutto Possa essere Ricollegato A questo Presunto Maniaco Seriale Che si è fatto Di nuovo Vivo Dopo 30 anni Vogel Va a parlare Con questa giornalista Che gli dice Anche di persona I suoi sospetti E Cominciano A indagare Fanno delle verifiche E Poi Arriva A Come posso dire A Vogel Arriva un video Di questo Rapitore Si vede Lui Questo Rapitore Che è un Passamontagna E Si riprende E poi Gira la telecamera Su Anna Lukasner E Non si vede altro Però da alcuni dettagli Vogel Riesce a capire Dove si trovavano Arriva sul posto Di un vecchio Tele abbandonato Nel video Si vedeva Rapitore Che faceva così Il countdown 3 2 1 Da lì Vogel Capisce Che erano Nella stanza 321 Apre la porta Della stanza E non c'è nessuno Apre quella del bagno Lì ci sono Di giornalisti Che hanno avuto Una copia Del video E Da lì inizia Un po' Il calvario Di Vogel Perché Non ne aveva parlato Nessuno Né con Questo Blog Da giornalista Né con Questo video Quindi Tutti si domandano Come abbia saputo Di questo Tele Bale Vare E Fanno Delle altre Indagini Altre cose Comunque Scarcerano Martini E Alla fine Comunque Si capisce Che Non Troveranno Mai La ragazza E Si darà La colpa A questo Presunto Serial Kill Cioè Seriale Della Nebbia Però Non si No Aspettate un attimo Per i casi Precedenti Si è appunto La colpa A questo Seriale Della Nebbia E In realtà Però poi L'avevano Scarcerato Martini Però in realtà Poi alla fine Si scopre Che il vero Colpevole Per L'omicidio Diana Dianna Lucassner E appunto Martini E Il quale Aveva ideato Il tutto Per Finire In televisione Per fare Delle interviste Poi a pagamento Perché Per raccontare Appunto Tutto il suo calvario Quello che ha vissuto Abbandonare Della parte Della famiglia Che è poi tornata Quando è stato Scarcerato A Balevare Lui Pur di fare Queste interviste A pagamento Ha inscenato Il tutto Ha inscenato Il tutto Per i soldi Perché lui Comunque Tempo Prima Lui era un professore La moglie Era avvocato Ed era stato Tradito La moglie L'aveva tradito Con un avvocato Avevano poi Deciso Di ricominciare Tutto da capo Ad Aveshò Però si era d'accordo Che Non riusciva A Soddisfare Tutte le richieste Tutto ciò Di cui aveva bisogno La sua famiglia E quindi Avevano Messo In piedi Tutta questa storia Per Guadagnare Tanti soldi Da queste interviste Quindi aveva ucciso Questa ragazzina E tutto il resto A me Appunto Come ho detto all'inizio Questo è il primo libro Che leggo di Carisi Il suo primo libro Il suo geritore Anche credo Che sia quello Più conosciuto Il più famoso Infatti L'avevo Quel libro lì Il suo geritore L'avevo già visto Però non l'ho mai letto E Questo è Veramente bello Perché fino alla fine Tu non ti rendi conto Di chi diamine Sia Il rapitore Della ragazzina E che fine abbia fatto Perché Ti lancia un indizio Carisi Però E alla fine Quando Si capisce Che il colpevole Dici Ok Ti viene in mente Che aveva lanciato Il dado Diciamo Aveva lasciato Questo inizio Però Dici Potrebbe Essere lui E averlo fatto Per quel motivo Come potrebbe Essere stato Un'altra persona Quindi Dubiti Diciamo Fino alla fine Se sia veramente Lui il colpevole A me è piaciuto Perché appunto Ti tiene incatenato Fino alla fine È molto discorsivo Molto fluido Si legge molto Velocemente Infatti Nel giro di Due giorni L'ho finito Perché Volevo arrivare Alla fine A vedere Chi diamine Fosse il rapitore E chi fine Avesse fatto La ragazzina Quindi Se vi piacciono I gialli Polizieschi Insomma I thriller Cioè Qua non c'è Molta azione Perché più Tutto un lavoro Di indagine Di Cioè Non c'è Molta azione Non c'è azione Però comunque Se vi piace il genere Ve lo consiglio tantissimo Questo è tutto Fatemi sapere Se avete letto Questo romanzo O se ne avete letti Altri di Carrisi E se sì Cosa ne pensate E fatemi Appunto Se sapete Se vi piace il genere Questo è tutto E ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima